Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale e oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da poco dall'insegna del Giglio che si intitola Architettura Medievale il 300 modelli tecniche e materiali a cura di Silvia Beltramo e Carlo Tosco che abbiamo un grande piacere di avere i nostri graditi ospiti e i quali come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parlano di questo interessante volume. Prego a voi. Eccoci. Allora Silvia cominci tu a raccontare un po' come è nato. Benissimo dunque il il volume che intanto fa parte di una collana che ha già avuto una prima uscita con il volume dedicato al tema dei frati, la città medievale e la città dei frati che è stato presentato anche appunto su questo canale da Italia Medievale in precedenza si arricchisce di questo secondo volume che affronta appunto una tematica molto ampia quella dell'architettura del 300 è un volume che racchiude un numero consistente di disagi perché sono oltre una cinquantina di contributi a più mani quindi un ringraziamento va sicuramente ai colleghi e le colleghe che hanno accettato di partecipare hanno reso un contributo significativo rispetto appunto a un tema che fino ad oggi almeno per quel che riguarda il nostro territorio italiano non era così indagato a cavallo tra due momenti storiografici molto importanti molto noti molto studiati cioè il 200 e il 400 il secolo in mezzo appunto il 300 era rimasto un po' nell'oscurità rispetto ai temi dell'architettura che invece appunto meritavano sicuramente una specifica attenzione ovviamente quando parliamo di architettura parliamo di edifici di complessi di parti di città conservate o non nel senso che abbiamo comunque dato spazio anche il contributo dell'archeologia sui temi di un'architettura che però conserva ancora oggi tracce veramente significative e importanti sono cantieri siamo troviamo appunto all'interno dei saggi cantieri monumentali molto molto noti come le cattedrali del 300 e arriviamo però anche casi meno noti cioè a edifici che fanno parte di contesti territoriali più minuti ma sicuramente compongono un panorama che voleva essere insomma non intendiamo esaustivo ma sicuramente ben rappresentato il volume ha una suddivisione per grandi temi cioè la scelta è stata proprio quella di individuare anche per facilitare la lettura di questo in questa pubblicazione così corposa e quindi creare dei fili conduttori in una sezione appunto di una prima sezione che introduce dei temi quindi l'architettura la città e l'archeologia nel 300 appunto una una seconda sezione dedicata all'architettura sacra intendendo appunto le cattedrali che citavamo poco fa gli edifici e i complessi degli ordini religiosi e le chiese secolari quindi anche in una discesa di scala rispetto al costruito. Una successiva sezione che invece riguarda l'architettura civile e quindi in particolare gli edifici che sono edifici che nascono con una funzione precisa come per esempio tutto quel grande panorama dell'edilizia dei palazzi comunali, dei palazzi del potere quindi dei palazzi che servivano per regolare per la vita delle città ma anche naturalmente i palazzi privati quindi l'edilizia privata che proprio nel corso del del 300 ha uno sviluppo significativo con un aggiornamento anche sul temi del costruire, la funzionalità, la disposizione degli spazi all'interno. E poi le ultime due sezioni del volume dedicate appunto all'architettura fortificata insomma i castelli del 300 sono ancora oggi per noi patrimonio noto, conosciuto e sono un po' quelli che maggiormente interpretano l'immaginario del medioevo quando noi pensiamo ai castelli o li vediamo facendo parte di film piuttosto che di altri aspetti della comunicazione del medioevo e poi ci riferiamo soprattutto a questi castelli di questo periodo piuttosto che a quelli più antichi e poi naturalmente il dettaglio del costruire quindi un'architettura che è fatta di materiali, che è fatta di scelte costruttive, di sistemi costruttivi ai quali appunto abbiamo dedicato l'ultima sezione in cui è articolato, in cui è composto il volume. Quindi appunto molto ampio come temi rappresentati, eterogeneo per la partecipazione perché gli autori sono autori internazionali che provengono da ambiti non solo geografici ma scuole proprio di studi di ricerca consolidate nel corso del tempo e di provenienza europea e anche discipline proprio perché accennavo all'inizio all'archeologia ma abbiamo avuto anche contributi da parte delle discipline del restauro da chi si è occupato più della parte della rappresentazione, del rilievo, anche proprio come strumento di lettura e di analisi per queste architetture. Mi fermerei, lascio la parola a Carlo. Eccoci. Allora sì, dopo questa introduzione di Silvia Beltramo che ci ha aiutato a entrare dentro il volume, qualche riflessione forse culturale sul significato che è un'operazione del genere provera. Bene, forse non mi ricordo se l'abbiamo detto, ma il volume è scaricabile, è accessibile a tutti quindi credo anche senza abbonamento ogni istituzione si può scaricare e quindi è un volume aperto sebbene sia di molte pagine, quante pagine sono? Non ce l'ho qui davanti ma sono quasi 600 pagine quasi 600 pagine quindi è un lavoro impegnativo che è offerto a tutti, quindi tutti in qualche modo potranno gli interessati potranno usufruire. Allora è un tentativo di riflettere sul 300 e di rifletterci in modo non unitario perché per forza un volume miscellaneo è un volume non unitario, quindi non c'è una voce che in qualche modo tira le fila e dice bene signori il 300 europeo è essenzialmente questo. Non c'è perché non ci deve essere perché in realtà un aspetto affascinante di questo volume è la sua polifonia, cioè un volume polifonico come Silvia ricordava a diverse sezioni con diversi argomenti ma anche proprio diversi spazi in questo senso è sicuramente squilibrato, cioè ci sono più aree più approfondite di altre ma perché? Ma perché la disponibilità degli studiosi, le nostre collaborazioni, le nostre rete era questo e quello noi presentiamo. Quindi non aspettate un volume che analizzi in modo esaustivo e sistematico il 300 europeo, ma piuttosto una serie di riflessioni, una serie di affondi e di indagini più o meno sistematiche su un grande secolo, su un grande secolo della storia europea. E ora proviamo a fare qualche riflessione su questo secolo e sui suoi aspetti archiettonici. Quando si parla di 300 spesso si parla di crisi, è il secolo della grande crisi. Nel manuale di storia c'è sempre la peste del 1348 e si dimentica sempre che poi le peste sono tantissime. Per tutto il 300 ci sono date epidemiche più o meno forti, quella del 48-49 è sicuramente la più devastante ma ce ne sono molte altre, ce ne sono molte altre lungo tutto il secolo, soprattutto nella seconda metà del secolo quando si inaspriscono. E la popolazione europea rimane progressivamente segnata da questo progressivo crollo demografico che è un crollo. In alcuni casi le città perdono anche un terzo della popolazione. Si parla sempre di questo aspetto, che è l'aspetto della crisi. Poi c'è una crisi economica, commerciale, eccetera. In realtà però poi se si guarda altre cose è un secolo straordinario perché c'è, pensate in Italia, il secolo di Dante, di Petrarca e di Boccaccio, cioè del più grande momento della letteratura italiana che non è mai più stato raggiunto, lo possiamo contarci finché vogliamo, ma non c'è più stato un momento così nella storia del nostro paese a livello letterario, no? E dunque, e te la do io la crisi? Sì, c'è la crisi, però poi c'è una straordinaria vitalità, vitalità che è proprio a livello delle arti, delle arti della parola, della letteratura e delle arti figurative, dove in tutta l'Europa riconosciamo delle imprese d'architettura, delle pittoriche e scultore senza precedenti. Allora vorrebbe da dire, no? Vorrebbe da citare Hegel, sapete, Hegel diceva i periodi felici della storia dell'umanità sono pagine bianche, no? Sono pagine bianche perché sono pagine che non servono a nulla. Invece i periodi di crisi sono quelli che ci interessano, sono le pagine ricche della storia dell'umanità. Ecco, allora il 300 basta perfettamente in questa definizione hegeliana. E allora se ci guardiamo le cose con maggiore attenzione, vediamo che c'è una situazione molto particolare dal punto di vista politico-sociale. E cioè, il regno che aveva rappresentato il grande dinamismo dell'arte e della creatura nel 200, cioè la Francia, tutto era partito dalla Francia, il gotico era partito dalla Francia, i romanzi calavalareschi erano partiti dalla Francia, le università in senso, diciamo, fortemente scolastiche, cioè l'organizzazione della filosofia scolastica, erano stati francesi, eccetera. Quindi, in questo paese entra in una crisi irreversibile. Dopo Filippo il Bello inizia la guerra dei Cent'anni, che è una guerra terribile per la Francia. Quindi si costituisce molto poco. Quello che si fa sono soprattutto castelli. Mentre le chiese che hanno stato l'orgoglio della cultura francese del 200, sono molto in crisi, sono molto poche le chiese fatte in questo periodo. In Italia succedono cose strane. Succede che l'Italia è orfana del Papa, e quindi il Papa non c'è più, perché è nato all'Avignone, come ti sapete, quindi la committenza di Roma nei territori pontifici è in forte stagnazione. Al sud c'è un regno grande, il regno angioino, nel 300, è un periodo straordinario, dove in effetti, in una dimensione profondamente mediterranea, si incontrano realtà molto diverse. D'altra parte si incontra una cultura francese, che però è una cultura provenzale, non è una cultura francese del nord, non è una cultura francese delle cattedrali, è la cultura francese della lingua d'occo, del sud. Ed è quella che rifluisce nel regno di Napoli. E, d'altra parte, in virtù di rapporti matrimoniali, Roberto ha sposato la regina Sancia, che era discendenza mallorchina, quindi veniva dalla dinastia che regnava a Mallorca, allora entra fortemente un mondo mediterraneo. Allora, vedete, nel sud si rafforza questo asse mediterraneo, che ritroviamo anche nell'architettura, che ritroviamo anche nella Sicilia, dove invece domina effettivamente un'altra dinastia mediterranea, che è il sogno agonese. Allora, guardate come l'Italia cambia i suoi volti. Poi saliamo su e troviamo la Toscana del Trecento, è inutile dire cosa sia di grande la Toscana del Trecento, e poi all'ordine invece le signorie, le prime forme di signorita, le prime sperimentazioni di stati regionali dominati da un signore che ha una dimensione urbana, quindi che sta in una città, e che quindi avvia una politica, in qualche modo, di restaurazione urbana, dove al centro c'è la città, non solo il signore. Cioè, quando i disconti fanno una politica di ripianificazione, di rilancio della capitale di Milano, fanno una politica di tutto per Milano. Certamente è la dinastia che è sullo sfondo, però al centro c'è Milano, c'è la città, c'è la Repubblica abbrosiana, c'è la grandezza di questa storia. Allora, capite? Questa è, per darvi soltanto, qualche idea della varietà del Seicento, il Seicento e il Trecento. Il Trecento è un secolo di straordinaria varietà, di straordinaria vitalità. E quindi, quando si sente parlare del Trecento come il secolo della crisi, veramente non si capisce quale motivo. Beh, perché, l'abbiamo detto, la crisi c'è, ma è proprio in questa crisi generale, che è una crisi epidemica, sanitaria, di ordine pubblico, di stato continuo di guerra. C'è uno stato continuo di guerra nel Trecento, in tutti i paesi europei tendenzialmente. Ecco, in tutto questo, però, le arti figurative conoscono uno sviluppo veramente straordinario. Ecco. Direi... Dai, Sidi. Possiamo, forse, aggiungere ancora alcuni aspetti che permettono di entrare per chi ci ascolta, insomma, nei temi del volume. Come tu dicevi, intanto, a mostro almeno la copertina, che si può vedere, anche se... No, adesso qui è tutto sfocato per l'effetto zoom. Non la vedete? Vedete solo una mi fa? Ecco, sì. Così, perfetto. Così. dicevamo appunto temi molto eterogenei. In questo, la scelta di individuare queste sezioni, come si diceva, è anche un po' un aiuto alla lettura del volume. L'architettura religiosa anche in questo volume, quindi in questo secolo, nel Trecento, ha un ruolo predominante e quindi si ritrovano contributi saggi che indagano quello che è il patrimonio architettonico dei principali ordini religiosi. e quindi sicuramente tutta la parte di una grossa parte dei contributi sono dedicati ai mendicanti e quindi ai nuovi grandi cantieri, quelli sia a scala veramente monumentale che caratterizzano le città italiane del 200, ma anche trasformazioni di monasteri preesistenti e quindi interventi che sono rivolti a rivedere, riprendere altre parti. Mi riferisco per esempio ai casi benedettini che vengono trattati come quello del Bissudiaco che è citato appunto in un saggio dedicato nel volume. Non solo mendicanti intesi come minori e predicatori ma anche gli agostiniani che sono documentati con alcune architetture del nord Italia e poi il sud Italia che veniva citato poco fa da Carlo Tosco come area particolarmente significativa per l'architettura del 300 che è presente proprio in particolare per quel che riguarda l'architettura religiosa legata alla committenza di Carlo I no scusate Carlo sì Carlo I D'Angio e poi anche comunque ad altri ad altri momenti invece il tema delle dei castelli vede sia componenti più strutturate come vere proprio appunto impianti castellani ma anche torri intese come torri di città per esempio il caso di Cagliari come torri che quindi servono a delimitare parti delle città ingressi quindi torre porta o strutture appunto inerenti ai castelli anche però castelli dei quali si conservano tracce significative nelle fonti documentarie perché ovviamente l'architettura viene letta all'interno di questi saggi sia attraverso il costruito ancora conservato sia naturalmente attraverso l'utilizzo di fonti documentarie e di fonti iconografiche Milano la Milano Viscontea anche questa citata poco fa con un saggio che propone alcuni nuovi studi dedicati proprio alle trasformazioni della della città nel corso del 300 tra fine 200 e poi per tutto il 300 e fino ad arrivare dicevamo a temi maggiormente puntuali come per esempio lo studio dei materiali dei colori noi abbiamo delle iconografie delle città del 300 sicuramente insomma quella del buon governo è molto nota è molto conosciuta ma è solo un esempio che rappresenta quella policromia che assumevano le architetture e le città di questo di questo periodo policromia e trattamento delle superfici ai quali appunto è dedicato un saggio anche all'interno del volume così come in molti o in diversi insomma edifici religiosi già costruiti in precedenza vengono ripensati i sistemi di copertura e quindi interventi sulla definizione di volta a crucera o ripresa o nuova costruzione trasformazione insomma anche in edifici importanti come quelli di Santa Maria Novella e altri cantieri monumentali delle città del 300 quindi il panorama è sicuramente un panorama molto ampio molto vasto che va a indagare appunto anche edifici solo come dire testimoniati da frammenti questi sono elementi di grande interesse perché probabilmente a tutti sono noti appunto i cantieri monumentali in altri casi il volume aiuta a scoprire o a riscoprire delle testimonianze che oggi sono occultate all'interno di altri edifici e quindi può costituire anche un volume guida per alcuni casi meno noti meno conosciuti che però vengono trattati dagli autori abbiamo cercato proprio per aiutare la lettura di questi saggi di inserire anche un apparato iconografico esaustivo per cui nella versione scaricabile online open access come diceva Carlo Tosco poco fa trovate tutte le immagini a colori mentre nella versione stampa una parte delle immagini sono in bianco e nero ma lasciando appunto a colori queste immagini a tutta pagina essendo un grande formato comunque anche questo aspetto un aspetto importante per la comunicazione diceva appunto lasciando a piena pagina le immagini introduttive delle sezioni e dei saggi in questo modo una sorta scusate una sorta di biglietto da visita per il saggio che poi viene trattato appunto nelle pagine seguenti questo è il secondo volume della collana architettura medievale appunto edita dall'insegna del giglio abbiamo già in prossima edizione un terzo volume quindi speriamo che questo permetta di ritornare su questi temi appunto anche in altre occasioni e anche con temi non strettamente ovviamente legati a questa cronologia ma certo all'ampio panorama dell'architettura medievale bene bene e direi che bisogna come minimo scaricarselo e poi magari anche comprarlo perché lo sforzo dell'editore va ripagato in qualche modo quindi io ricordo il titolo che è architettura medievale due punti il 300 modelli tecniche e materiali pubblicato dall'insegna del giglio a cura di silvia beltramo e carlo tosco che abbiamo avuto il grande piacere di avere i nostri graditi ospiti che io ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito e a tutti i nostri ascoltatori ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale youtube dove trovate tutte le video presentazioni realizzate finora grazie ancora e a presto con altri grazie arrivederci e grazie a lei dell'ospitalità grazie grazie dell'ospitalità e a presto grazie